Le segnalazioni di degrado ai casi di abbandono rifiuti nel territorio comunale di San Costanzo non rimangono impuniti. Questa è la valutazione sul resoconto fornito dal comandante Andrea Rovinelli, che oltre alle attività proprie del Corpo di Polizia Locale, riassume anche quelle del servizio degli ispettori ambientali ASET, avviato nel 2021 e confermato per il 2022. Durante l'anno appena concluso, sono stati effettuati oltre 300 accertamenti, tra sopralluoghi, segnalazioni e verifiche fotografiche, che hanno portato alla rilevazione di 40 verbali, di cui 24 a seguito di accertamenti degli ispettori, 7 attraverso telecamere e fototrappole e 9 mediante servizi di appostamento e rovistamento di rifiuti, per un importo totale accertato di sanzioni amministrative di 7.350 euro. A questo va aggiunta una denuncia penale, che a seguito dell'attività di indagine svolta in collaborazione con il Commissariato di Polizia e del Comando dei Vigili Urbani di Fano, ha portato all'individuazione dell'autore dell'abbandono di 1.500 kg di pneumatici nelle isole ecologiche di San Costanzo e Fano. L'attività di vigilanza non ha riguardato solo l'accertamento di illeciti e violazioni del regolamento comunale, ma anche un'attività di informazione alle utenze domestiche ed attività economiche sul corretto conferimento di rifiuti e il controllo dei conduttori di cani sui dispositivi obbligatori per la raccolta delle deiezioni. Consideriamo questa attività, ha dichiarato l'assessore all'ambiente Stefano Giraldi, una forma di responsabilità per rispetto di tutte le persone che con elevato senso civico adottano comportamenti corretti nella gestione dei rifiuti e che spesso non possono godere di situazioni di decoro adeguate a causa di pochi.